Come ogni anno sono numerose le iniziative organizzate in Piemonte per il giorno della memoria, fissato il 27 gennaio per ricordare la tragedia dello sterminio degli ebrei nel lager nazisti. A molte di queste contribuisce il Comitato regionale Resistenza e Costituzione. A Torino le manifestazioni sono state presentate al Museo Diffuso, Corso Valdocco IV, dove è allestita la mostra Arte e Shoah, con i lavori degli allievi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. Successo dell'anteprima nazionale del film La Rafle al Cinema Romano di Torino il 24 gennaio, organizzata dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con Ajace. L'anteprima nazionale della Rafle, la retata, che ricorda il 16 luglio 1942 della retata degli ebrei francesi a Parigi, data giorno della memoria in Francia come il 27 gennaio in Italia, ha dato un appuntamento importante per non dimenticare un periodo tragico per ricordare affinché queste cose non debbano mai più avvenire. Grande la partecipazione al concerto per la vita di Esther Begerano, una delle sopravvissute dell'orchestra femminile di Auschwitz. Insieme a due figli, Enna e Ioram, e al gruppo rap Microphone Mafia, Esther racconta la sua esperienza e testimonia il suo impegno civile contro il nuovo razzismo. Allora, abbiamo conosciuto a Esther Begerano tre anni fa e ci hanno chiesto se noi vogliamo fare i testi del rap di Schiller, di Brecht, e noi abbiamo detto sì, noi facciamo queste cose qua e poi hanno chiesto se noi possiamo fare il rap dei testi della gente che sono state in Auschwitz e noi abbiamo detto è pericoloso fare queste cose perché non si sa uno come pensa e abbiamo conosciuto Esther, che lei fa musica e abbiamo fatto quest'album di Esther e Nabejarano in rap. Il concerto lettura è andato in scena il 25 gennaio al Conservatorio di Torino, replicato al Teatro Vittoria ed Alessandria.